ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere e oggi abbiamo un bel box fifa 365 2024 la collezione di quest'anno di panini fifa e abbiamo un bel box da andarci ad aprire insieme vediamo un po che cosa riusciremo a trovare cerchiamo le figurine del my golden team ci sono tanti calciatori veramente interessanti a trovare le figurine sono molto ma molto belle e in questo video le vedremo insieme anche se sul canale potete trovare già un video dedicato proprio a questa raccolta prima di partire con lo spacchettamento però come sempre io vi ricordo l'iscrizione al canale che è gratuita non vi costa niente aiutate soltanto me a portare contenuti sempre più nuovi e interessanti per voi poi vi ricordo di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video detto questo un bel box da 36 pacchetti 90 centesimi a pacchetto siamo tra i 32 e i 33 euro per acquistare questo box vi ricordo che la collezione in italia non è ancora arrivata è uscita invece la collezione fifa 365 adrenaline quella delle carte per questa collezione solitamente si aspetta gennaio dopo l'uscita dell'album calciatori 2023-2024 ci siamo abbiamo aperto il nostro box eccole qui le nostre bustine e direi senza perdere troppo tempo di andare a spacchettare questi bei pacchetti figurine belle grandi sono sempre a coppia i giocatori lo sappiamo già eccole qui partiamo subito con due giocatori al porto sono tony martinez e galeno poi abbiamo due giocatori del francoforte benfica teo hernandez e tu per il milan ramos e dembélé oltre a un codice eccolo qui che se volete potete prendere per giocare alla raccolta digitale provare a terminare la raccolta calciatori fifa 365 anche in versione digitale continuiamo vediamo se troviamo qualche figurina speciale per adesso tutti i calciatori allora eccola qua subito lo stemma del marsia come sono belli gli stemmi quest'anno lo stemma del liverpool poi abbiamo due giocatori del panatinaicos continuiamo con due giocatori del paciucca i messicani del paciucca e un codice altro pacchetto altro pacchetto eccole qui le altre figurine speciali sono le figurine dei giocatori in movimento sono a tre molto molto interessanti anche queste poi abbiamo la maglietta in casa e in trasferta del gank i belgi del gank due giocatori del paris saint germain bella questa giosello vinicius junior e rodrigo per il real e la maglietta della juventus oltre al codice altro pacchetto dobbiamo ancora vedere la prima figurina my golden team le magliette del palmeiras poi abbiamo tre giocatori in movimento per il liverpool le magliette del marsia poi abbiamo altri giocatori del panatinaicos movimento del panatinaicos e il codice per adesso niente di particolarmente interessante ma arriveranno arriveranno ragazzi abbiamo i giocatori in movimento della lazio luisa alberto cataldi e camada poi abbiamo eccolo declan rice e georginio bella questa le marre a sbilichetta per l'atletico due giocatori del manchester city rico lewis ragazzi questo è un 2004 insieme a sergio gomez è un 2000 due giocatori del panatinaicos ancora e il codice è tutto per voi dove siete my golden team dove siete abbiamo la figurina con i calciatori del manchester poi aslani e carlos augusto per l'inter toni cross e camavinga poi abbiamo belardi e claus due giocatori nel marsia continuiamo con crunic e reinders per il milan oltre al codice andiamo avanti e troviamo due giocatori dell'atletico i giocatori in movimento del parisian chairman abbiamo marco senzio gonzalo ramos e vitigna altri giocatori in movimento del arsenal due giocatori della lazio altri giocatori in movimento ma per ora niente figurine del my golden team con le palmer e calvin phillips per il city bella ragazzi questa guardate qui sono le figurine dedicate ai campioni del mondo dell'argentina con julian alvarez angel di maria e lionel messi questa è una figurina molto interessante oh è arrivato virgil van dyck per il liverpool due insieme vinicius junior subito sotto non ne abbiamo trovate fino a questo momento ne abbiamo trovate due insieme e poi i giocatori dell'atletico madrid e due figurine del my golden team su 25 che sono in totale le abbiamo finalmente trovate continuiamo con giocatori mamma mia che figurina guardate qui ricco lewis il 2004 del manchester city ha una figurina anche tutta sua dorata veramente molto bella poi abbiamo anche le leggende guardate qui xavi hernandez passiamo da un classe 2004 a un classe 1980 e questo è il codice è tutto per voi questa raccolta è veramente veramente molto bella tre giocatori intanto in movimento è il liverpool altri è il benfica abbiamo zair emery 2006 ragazzi emery è un 2006 pazzisco lautaro intanto è marco sturam che sta facendo un grande campionato è il codice per voi andiamo avanti andiamo avanti e troviamo due giocatori dell'ajax una figurina con i giocatori del palmeiras i giocatori del porto poi abbiamo tre giocatori del marsia in movimento e i portieri dell'ajax oltre al codice attenzione altra gran bella figurina zinedine zidane la leggenda e abbiamo trovato anche my golden team e lautaro martinez fantastico bel pacchetto poi abbiamo trovato le maglie del francoforte e altri protagonisti del mondiale in catar sono martinez tagliafico e molina oltre al codice continuiamo a spacchettare oh e finalmente abbiamo trovato altre figurine veramente interessanti in movimento grillish holland e phil foden per il city calabria e tomori jeremy pino per il villareal mario goetze colomuani qui ancora al francoforte renan lodi e gigot per il marsia e il codice ci apriamo un ultimo paio di pacchetti prima di terminare e continuiamo con dei giocatori del francoforte abbiamo altri giocatori del villareal l'eruasane e musiala per il bayern diaz e john stone per il city e niente il codice per voi ultimo pacchettino fifa 365 2024 abbiamo trovato un altro stemma è lo stemma dell'ik di atene rodri la carta my golden team di rodri poi abbiamo due giocatori del paciucca i giocatori dell'arsenal e poi tre giocatori in movimento del bayern sono goresca kimmich e sergei gnabri oltre al codice siamo arrivati alla fine di questo video abbiamo trovato almeno qualche carta del my golden team ne abbiamo trovati quattro sono rodri lautaro martinez vinicius jr e virgil van dyck veramente sono figurine spettacolari molto molto belle come così le figurine grandi abbiamo visto le leggende e le ruchi diciamo abbiamo visto emery enrico lewis veramente molto belle e niente poi abbiamo visto un po' di giocatori vari detto questo ragazzi prima di passare ai saluti io vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale che è gratuita di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e con la raccolta fifa 365 2024 di panini da lanciere è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao